Allora, Natalia Ginzburg sta vivendo un momento di fortuna editoriale, non solo, davvero in tutto il mondo, in particolare in Italia ma anche nel mondo anglosassone, ci sono riedizioni, ritraduzioni, ristampi, introduzioni di scrittrici importanti come Recel Casco, come anche più giovani, come Saliruni, insomma l'hanno scoperta un po' adesso diciamo loro, c'è stato un bel saggio della Gordy, però adesso c'è proprio una Ginzburg Renaissance nel mondo anglosassone e da noi c'è tanto, soprattutto negli studi, ci sono tesi di laurea, tesi di dottorato che stanno veramente invadendo un po' la mia scrivania perché alcuni me le mandano, però insomma danno il senso di un interesse crescente, insomma Natalia Ginzburg forse non è mai stata diciamo nel canone del novecento italiano al punto così in alto come sta adesso, finalmente. e poi c'è la fortuna teatrale per noi di Torino, cioè per chi frequenta Torino o chi è di Torino in questo momento al Carignano sapete c'è uno spettacolo con la regia di Nanni Moretti che mette insieme due testi molto belli di Natalia e ne hanno parlato davvero in tanti, poi questo spettacolo girerà e quindi insomma anche questo aiuta alla fortuna di Natalia. C'è stata questa serie, come diceva Elena Nevental, di incontri al circolo quindi alcuni di voi forse avranno potuto già vedere il primo incontro con gli attori dello spettacolo e poi una seconda serata invece con tre scrittrici e con la nostra padrona di casa appunto Elena Nevental e con la nipote di Natalia e c'era Lisa Ginzburg e oltre alla Salvioni e quindi anche generazioni diverse di scrittrici che si confrontavano con la scrittura di Natalia Ginzburg e questa serata come appunto è stato anticipato verte su un argomento più ristretto ma molto interessante cioè Natalia Ginzburg editor, i suoi anni alle Inaudi che sono stati come redattrice di una decina diciamo dal 44 al 52 e poi di consulente fino a per tutta la vita fino a praticamente alla morte. Ecco anche in questa sua versione diciamo editoriale direi che è stata abbastanza sottovalutata e adesso sta venendo fuori l'importanza che ha avuto nella casa di Inaudi. C'è un libro uscito recentemente di Giulia Bassi, una giovane studiosa che mostra con dei documenti importanti che non erano stati presi in considerazione, carteggi tra Natalia Ginzburg e alcuni scrittori, come in realtà lei era davvero un punto centrale, era di fatto la responsabile della narrativa italiana in un certo periodo quando Pavese si interessa più della colonna viola e poi anche sui gettoni, i famosi gettoni di Vittorini, tutti dicono i gettoni di Vittorini, in realtà sono anche i gettoni di Natalia Ginzburg, tutti sapevano che Calvino metteva il naso diciamo nelle questioni dei gettoni ma su Natalia se ne sapeva molto meno, invece alcuni autori dei gettoni sono stati scoperti da Natalia come Tonino Guerra, come Arpino per esempio e molti dei famosi risvolti di Vittorini. D'altra parte questo che sia stato un po' cancellato, questa importanza della figura di Natalia, a lei Naudi non sorprende più di tanto perché Naudi è sempre stata una casa editrice nella sua storia molto maschilista, tant'è vero che nei verbali delle riunioni del mercoledì, recati da Tommaso in due volumi anni fa, ci sono sempre queste intestazioni roboanti, partecipano il professor Cantimori, il professor Venturi, il dottor Bollati, il dottore Inaudi e Natalia. E ancora mancava un po' che le chiedessero di preparare i caffè, quindi in una situazione così non sorprende che appunto il suo apporto nelle scelte editoriali sia stato appunto ufficialmente un po' sminuito e adesso è bene che venga riproposto e rivalutato. Personalmente posso dare così una mini testimonianza perché io sono entrato a lei Naudi nel gennaio del 91 e quindi lei è morta nell'ottobre e lei era una consulente per la narrativa italiana e io ero entrato come junior editor della narrativa italiana e quindi avevamo un appuntamento fisso il lunedì mattina al telefono che stava a Roma e quindi c'era la telefonata con Natalia. Tutti i lunedì per alcuni mesi perché poi lei era già malata e aveva lo stomaco che insomma si sarebbe aggravato nei mesi successivi quindi poi la cosa è finita lì. Poi l'ho incontrato una volta a Roma una presentazione in cui lei era vicina al suo critico diciamo d'elezione cioè Cesare Garboli ma invece al telefono ci si sentiva regolarmente e quindi posso dirvi anche che l'ultima scoperta di Natalia è stata un'autrice che poi in realtà è uscita da Feltrinelli perché io diciamo non ero così convinto e ho gusti un po' diversi e però Cristina Comencini era davvero tratta Natalia era molto severa nelle sue letture lei leggeva sempre uno o due libri alla settimana manoscritti e appunto ne parlavamo però erano quasi sempre dei no da parte sua. Con Cristina Comencini invece poi è stato il primo libro si chiamava Schegge di qualcosa frammenti forse di qualcosa. Le pagine strappate. Sì comunque era la storia di una giovane depressa e attraverso appunto la sua depressione si venivano fuori tutti i così conflitti familiari le cose le storie di famiglia difficile che piacevano a Natalia. E comunque insomma alla fine ci aveva visto giusto perché Cristina Comencini è diventata un'autrice importante e poi pubblicato dopo molto dopo anche da Inaudi e ci aveva visto giusto il giovane editor di allora ma però è stato bello avere questo questo periodo seppur breve di incontri con lei perché era una persona con una sua severità di fondo ma anche con una sua cordialità sotterranea diciamo per cui era sempre bello telefonare a lei cioè ci sono delle telefonate che si fanno di lavoro che non sono quando uno deve farle dice off. Invece questa era proprio una telefonata piacevole e appunto c'era una ironia sotterranea anche se appunto non stava tanto bene ma è stato bello e questo appunto è stato l'ultima fase l'ultimissima fase della sua attività di unaudiana in qualche modo editoriale ma c'è c'è stato molto prima molte cose prima che adesso di cui adesso vi parleranno Tommaso Munari e Domenico Scarpa è uno degli studiosi di letteratura italiana del novecento più importanti che ci sono ma in particolare sulla Ginzburg è davvero la massima autorità ha scritto tante cose ha prefato tutte le nostre edizioni ha curato il teatro insomma e oltre che a essere avere altri interessi perché il suo primo libro Calvino fa la conchiglia è invece un volumone su Calvino e poi insomma tanti altri autori ma certamente su Natalia è davvero un'autorità e Tommaso Munari è uno storico moderno in particolare è specializzato su storia dell'editoria uscirà a breve credo generale un suo libro di storia dell'editoria italiana molto bello e ha curato molte cose di storia dell'Einaudi i volumi dei verbali di cui accennavo prima e anche tante altre cose quindi a loro due lascio la parola prima direi che Tommaso potrebbe leggere un breve testo di Natalia che ci dà la misura del suo understatement nel considerare appunto le proprie le proprie attività e questo favoriva magari gli altri a accettare questo questo valutazione bassa che poi non era così prego la pigrizia nel 44 nel mese di ottobre venne a Roma per trovare lavoro mio marito era morto nell'inverno a Roma aveva sede una casa editrice dove mio marito aveva lavorato per anni editore si trovava allora in Svizzera ma la casa editrice subito dopo la liberazione di Roma aveva ripreso la sua attività pensavo che se avessi chiesto di lavorare in quella casa editrice mi avrebbero dato lavoro e tuttavia il chiederlo mi pareva mi pesava perché pensavo che mi sarebbe stato dato un posto per compassione essendo io vedova e con figli da mantenere avrei voluto che qualcuno mi desse un posto senza conoscermi e per mie competenze il male era che io competenze non ne avevo avevo intrattenuto questi pensieri nei mesi dell'occupazione tedesca ero allora con i bambini nella campagna toscana di là era passata la guerra poi era sopravvenuto il silenzio che succede alla guerra e infine nella campagna in mota e sui villaggi sconvolti erano arrivati gli americani noi ci trasferimmo a Firenze lasciai i bambini a Firenze con i miei genitori e veni a Roma volevo lavorare perché non avevo soldi tuttavia se fossi rimasta con i miei genitori avrei ugualmente potuto vivere ma l'idea di essere mantenuta dai miei genitori mi pesava moltissimo inoltre volevo che i miei bambini riavessero una casa con me da tempo noi non avevamo più casa avevamo vissuto in quei mesi di guerra o da parenti o amici o in conventi o alberghi viaggiando verso Roma in una macchina che ogni mezz'ora si fermava carezzavo sogni di lavori avventurosi come fare la bambinaia fare la cronaca nera in un quotidiano l'ostacolo principale ai miei propositi di lavoro consisteva nel fatto che non sapevo far niente non avevo mai preso la laurea essendomi fermata davanti a una bocciatura in latino materia in cui in quegli anni non veniva mai bocciato nessuno non sapevo lingue straniere a parte un po di francese e non sapevo scrivere a macchina nella mia vita salvo allevare i miei propri bambini fare le faccende domestiche con estrema lentezza e inettitudine e scrivere dei romanzi non avevo mai fatto niente inoltre ero stata ero sempre stata molto pigra la mia pigrizia non consisteva nel dormire tardi al mattino mi sono sempre svegliata all'alba e alzarmi non mi è mai costato nulla ma nel perdere un tempo infinito oziando e fantasticando questo aveva fatto sì che io non riuscissi a portare a termine alcuno studio o fatica mi dissi che era venuta l'ora per me di strapparmi a questo difetto l'idea di rivolgermi a quella casa editrice dove mi avrebbero accolto per pietà e comprensione mi parve a un tratto la più logica e attuabile benché mi fossero pesanti i motivi per cui mi avrebbero accolta avevo letto in quell'epoca un libro che mi sembrava bello era jeunesse en dieu di von horvart autore di cui non sapevo nulla se non che era morto giovane sotto il crollo di un albero a parigi uscendo da un cinema pensai che non appena fossi entrata in quella casa editrice avrei tradotto e fatto pubblicare quel libro che amavo molto parlai con un amico che dirigeva quella casa editrice in assenza dell'editore l'amico era piccolo e grasso rotondo e rimbalzante come una palla quando sorrideva mille piccole rughe increspavano la sua faccia di bambino cinese pallida furba e dolce oltre alla casa editrice aveva altri numeri attività mi disse che mi avrebbe assunto per ora a mezzo impiego quando fosse tornato l'editore la mia situazione sarebbe stata definita con maggiore chiarezza mi disse di venire all'ufficio al mattino dopo e mi disse che nella mia stessa pensione abitava una ragazza che lavorava anche lei nella casa editrice con funzioni amministrative e che io avrei potuto al mattino far la strada con lei rientrata alla mia pensione salì le scale e bussai una stanza due piani sopra la mia ma perse una ragazza graziosa coi capelli bruni e ricciuti le guance rosse le chiesi se potevamo al mattino dopo far la strada insieme mi rispose che doveva andare io non so che non so che banca e così avrebbe preso un'altra strada era gentile ma riservata e fredda ridiscesi le scale con un confuso senso di sconforto e distrutta da un mortale complesso di inferiorità quella ragazza doveva lavorare da anni forse da sempre e il suo lavoro era di ordine amministrativo perciò ben definibile incrollabile e necessario passai una notte inquieta e piena di pensieri angosciosi mi dicevo che tutti subito vedendomi in quell'ufficio avrebbero scoperto il grande mare di ignoranza e pigrizia che era in me pensavo all'amico che mi aveva assunta e all'editore lontano ma forse sulla via del ritorno all'amico avevo cercato di spiegare che non avevo laurea di sorta non sapevo l'inglese e non sapevo far nulla lui mi aveva risposto che non importava che qualcosa avrei fatto ma non gli avevo detto della mia pigrizia quel vizio che avevo di cadere nell'inerzia e nel sogno appena mi trovavo a dover fare qualcosa non avevo mai pensato a un simile vizio con vero orrore quella notte lo contemplai con spavento e con orrore profondo al mattino arrivai a quello che doveva essere il mio ufficio una villetta al pian terreno circondata da un giardinetto mi trovai il mio amico la ragazza con le guance rosse seduta davanti a una calcolatrice e due dattilografe il mio amico mi fece sedere a un tavolo e mi consegnò un foglio dove era scritto norme tipografiche seppi così che perché e affinché avevano l'accento acuto ma tè e caffè e la che avevano l'accento grave poi mi diede un dattilo scritto era una traduzione di gusta berling avevo dovevo rivederne la forma italiana e mettere a posto gli accenti l'amico rimbalzando per la stanza come una palla mi disse che non dovevo crucciarmi se non avevo lauree perché questo non avrebbe sdegnato il nostro ormai comune padrone il quale neanche lui ne aveva una mi chiesi quale sarebbe stato dopo gusta berling il mio secondo lavoro con orrore m'accorsi che non lo sapeva avevo una tale paura di cadere nella pigrizia che mi buttai su quella revisione e in tre giorni avevo finito l'amico mi portò allora una copia francese delle memorie della moglie di jenny ne tradussi a precipizzo una trentina di pagine ma poi l'amico mi disse che aveva cambiato idea e non si faceva più quel libro mi diede una traduzione di homo ludens un giorno sulla porta dell'ufficio mi trovai davanti l'editore lo conoscevo da tempo ma non ci eravamo mai scambiati più di cinque parole e negli anni che non ci eravamo visti erano successe tante cose che adesso era come se ci incontrassimo per la prima volta lo sentivo amico e sconosciuto insieme a questi sentimenti si mescolava il pensiero che adesso era per me il padrone cioè uno che poteva scacciarmi da quell'ufficio all'istante mi abbracciò e arrossì perché era timido e sembrava contento e non troppo stupito che io lavorassi lì disse che sperava da me progetti e idee strozzata dalla timidezza e dall'emozione gli dissi che si poteva forse tradurre e pubblicare jeunesse en dieu non sapeva nulla di quel libro e gli dissi in fretta la storia del cinema e del crollo dell'albero aveva molte cose da fare e fuggì via subito nei giorni che seguirono non lo rivì di più ma la ragazza con le guance rosse venne a dirmi che ero stata assunta a pieno impiego un giorno appresi che stavamo per trasferirci in una sede nuova ne fui dispiaciuta perché mi ero affezionata a quell'ufficio soprattutto un alberello di mandarini che vedevo dalla mia finestra il nuovo ufficio era nel centro c'erano stanze immense con tappeti e poltrone io chiesi di avere per me uno stanzino in fondo a un corridoio là sarei stata sola e potevo imparare a lavorare perché la sensazione di non essere buona di lavorare mi perseguitava sempre l'amico si era rifugiato anche lui in una stanza da solo le stanze si erano riempite a poco a poco di nuove dattilografe e nuovi impiegati i nuovi impiegati passeggiavano febbrilmente avanti e indietro sui tappeti e dettavano alle dattilografe pagine e pagine di cui io coglievo passando parole di cui non capivo nulla oppure si intrattenevano in salotto con visitatori misteriosi colloqui l'amico mi disse che tutti quei nuovi impiegati e tutte quelle nuove dattilografe lui lo giudicava inutili giudicava anche inutili tappeti il salotto i visitatori e i colloqui capì che nuovi impiegati aveva che i nuovi impiegati avevano idee politiche diverse dalle sue egli appariva depresso e non rimbalzava più ma sedeva appartato e immobile al suo tavolo e il viso che non si increspava più a sorridere appariva smorto e triste come la luna vedendolo sconfortato e afflosciato ebbe a un tratto la sensazione che fosse come me e forse più di me ammalato d'una sconfinata pigrizia mi sentivo molto sola in quell'ufficio e non rivolgevo mai parola a nessuno la mia costante preoccupazione era che non venisse scoperta la mia grande ignoranza e la mia grande pigrizia e la mia assoluta assenza di idee quando riuscì a far chiedere i diritti di jeunesse en dieu seppi che la mia sola idea seppi che erano già stati comprati da un altro editore era stata la mia sola idea e si era dispersa nel vento per difendermi dalla pigrizia lavoravo con furia e vertigine immersa in un totale isolamento e in perfetto silenzio soltanto non smettevo di chiedermi se e come quel mio lavorare si allacciasse quella vita intensa e per me incomprensibile di cui erano piene e formicolanti le stanze mi feci fare una chiave e venivo in ufficio anche la domenica un un altro aneddoto che dimostra appunto l'understand come come questo è diverso da questo ma è quello che racconta l'alla romano mi sembra in un sogno del nord del capitolo di pavese no quando racconta che in casa editrice a torino insomma gli anni subito dopo la guerra c'era c'era pavese c'era natalia c'erano altri nella redazione e c'è a un certo punto ci fu qualcuno che starnutì e allora c'era questa cosa che bisognava esprimere un desiderio che si sarebbe avverato o come quando cadono le stelle nel cielo no e allora pavese disse un po' autoironico ma un po' forse autentico sinceramente e dice disse la gloria e natalia calze di nylon è significativo per i due caratteri piuttosto diversi ma lascerei la parola a domenico grazie pavese diceva anche un'altra cosa che l'alla romano riferisce senza dire di chi parlava ma si capisce benissimo che parlava di natalia alla grande forza della sua ignoranza diceva pavese di natalia e noi volevamo far sentire la sua voce la pigrizia per questo perché avrete sentito quanto quella voce è precisa e rozza e intensa ed è reticente soprattutto l'ultima il nome è in inaudi della ditta e dell'editore non ci sono l'amico rimbalzante che carlo muscetta non viene nominato tanto meno viene nominato l'editore bonpiani che aveva comprato i diritti di jeunesse and dieu tanto meno si dice che le norme tipografiche di cui si parla la che te eccetera erano state stabilite nel 1937 da pavese e da suo marito leone ginsburg sulla base della seconda edizione del manuale epli di ortoepia tante cose non si dicono ma ci arriva praticamente tutto perché attraverso quella ignoranza confessata si esprime il lavoro invisibile che si fa nelle case editrici perché questo è il punto il lavoro delle case editrici è un lavoro che non si vede è un lavoro che appare quando il libro appare e non appare sempre quante volte tu traduci natalia li racconta tutto dice abbiamo fatto 30 pagine delle memorie della moglie di lenin poi il libro non si fa ha un'altra cosa che non dice homo ludens non dice neanche di chi è è di oisinga oisinga era stato portato in casa editrice con la crisi della civiltà perché qui a torino al liceo d'azeglio lo teneva come libro di testo quando ancora non era tradotto in italiano negli anni 20 uno dei maestri di leone ginsburg il filosofo zino zini ci è arrivato così oisinga in casa in audi negli anni 30 cioè in quel in questo testo nella pigrizia c'è tutto un retroterra che non viene raccontato ma che in qualche maniera che in qualche maniera ci ci arriva e ci arriva direi proprio grazie a questa enorme forza dell'ignoranza di natalia che è dappertutto tranne che in un punto nel sentire perfettamente che cos'è la lingua italiana che cos'è la letteratura italiana che cos'è la poesia c'è un dettaglio che rischia di sfuggire in mezzo a quella marea di cose che lei dice di non saper fare il fatto che le danno una traduzione in italiano di un narratore nordico gusta berling perché lei riveda la forma italiana cioè perché rilegga una traduzione da una lingua che lei non conosce verso una lingua che lei viceversa domina alla perfezione e i documenti tra l'altro i documenti messi a disposizione essenzialmente da tommaso munari ci dicono ci raccontano che a natalia ginsburg per esempio fu assegnata la rilettura di tutto il teatro di brecht negli anni 50 tre volumoni dei millenni che lei ha riletto per la forma italiana e non è e non è l'unico caso il fatto che questo lavoro visibile sia diventa invisibile sia diventato in buona parte per una parte però ancora minoritaria visibile almeno per lei naudi si deve in gran parte al lavoro al lavoro di tommaso ma vorrei ritornare su due questioni una che riguarda proprio il testo il testo della pigrizia perché credo che se noi questo testo lo mettiamo ecco sembra un gioco di parole in un contesto qualche cosa di più la capiamo quel testo è uscito all'inizio del 1969 sul giornale di torino sulla stampa ed era uno dei primissimi pezzi che natalia ginsburg pubblicasse come collaborazione regolare aveva appena aveva collaborato a tanti giornali a tante riviste però sempre in modo discontinuo alla fine degli anni 60 finalmente comincia una collaborazione regolare e questo la pigrizia è il secondo il terzo articolo della serie che pubblica sulla stampa e questa serie è fatta all'inizio tutta di articoli dove lei racconta le cose che non sa fare crescere i figli fare i lavori di casa curare la propria persona quel discorso bellissimo che lei fa su come il collo delle donne di mezza età quella cosa orrenda che una donna di mezza età se lo dice lei stessa allo specchio e poi la pigrizia in casa editrice non so fare questo non so fare quest'altro e allora com'è che questa donna è tanto importante nella casa editrice che secondo punto quello che ha toccato mauro era un ambiente maschilista professor cantimoro il professor continui il professor bobbio il padrone giulinaudi che tutti chiamano il padrone natalia io credo che venga credo che questo venga fuori proprio da quella che forse un po' provocatoriamente ma chi la conosce sa che non erano aggettivi provocatori o sostantivi provocatori io ho chiamato precisione rozzezza e intensità a me interessa soprattutto la rozzezza di natalia ginsburg perché quella è stata veramente la sua forza cioè di riportare questa casa editrice così varia così così ramificata così intellettuale così antagonista nelle sue componenti così super intelligente così arrischiata nel fare discorsi astratti e sopraffini verso la terraferma delle cose che si toccano verso la terraferma delle parole degli accenti dell'interpunzione del ritmo la sua forza è stata è stata questa c'è il resoconto di una famosa riunione anche quello naturalmente pubblicato da tommaso siamo all'inizio del 1951 pavese è morto da poco la casa editrice stenta a rimettersi in piedi c'è una riunione che dura addirittura due o tre giorni in cui sotto la forma educata i grandi nomi della casa editrice se ne dicono di tutti i colori perché è chiaro che ci sono delle fazioni è chiaro che ci sono dei progetti concorrenti è chiaro che ci sono dei litigini anche tanto sotterranei sulla sterzata sulla direzione sul timone che dovrà prendere questa casa editrice e l'unico intervento di natalia in questa discussione di due tre giorni che vedremo fra un attimo la lascerà prostrata semplicemente prostrata nel fisico e nell'animo è io sono del parere che si debba prendere il buono là dove c'è e in quel contesto iper intellettuale e maschile sembra veramente una frase da casalinga da donnetta non lo era non lo era perché noi negli anni successivi troveremo la stessa frase pronunciata da uno dei più grandi sempre in ambito in audi da uno dei più grandi saggisti e consulenti della casa editrice cioè niente meno che sergio solmi saggista sopraffino e perché la forza della casa editrice alla fine grazie anche alla sua guida è stata questa concretezza e questa capacità di intensità io dicevo di precisione rozzezza reticenza e intensità tempo dopo quella riunione natalia scrive una lettera senza data a giulia in audi ma si capisce che sta parlando di quella riunione lì di quella grande plenaria di due giorni del 1951 e dice io oramai mi trovo a disagio dobbiamo fare qualcosa io non sento più intorno a me in ufficio quel crescere di pensieri questa è proprio la espressione che usa quel crescere di pensieri e io in ufficio senza quel crescere di pensieri non riesco a starci non riesco a venire a lavorare ecco questo incontro si intitola la scrivania di natalia io non riesco a mettermi alla mia scrivania e oltretutto non so neanche scrivere a macchina cosa mi ci siedo a fare se dietro quella scrivania e intorno a quella scrivania io non sento un crescere di pensieri che cosa sta dicendo sta dicendo che l'ignoranza e la pigrizia sono la sua forza sta dicendo che esattamente quel fantasticare a vuoto è il crescere di pensieri che le manca sta dicendo che il suo lavoro nella casa di trice aveva tutta l'apparenza di un non lavorare ed è stato questo che ha fatto la cultura italiana molto di più di tante intelligenze credo che questo fosse grazie insomma sei stato citato più volte come editore dei verbali e comunque come grande esperto dell'archivio in audi e in queste carte che tu hai studiato ci sono cose interessanti riguardo la telegins c'è nessuno e vorrei però carmi a quello che diceva domenico vorrei dire qualcosa su quello che quello che sapeva fare e quello che non sapeva fare natalia stessa pigrizia ma concretamente che cosa che cosa che cosa fece in caso di trice nel nel 1980 se non sbaglio no nell 89 quindi è una dichiarazione retrospettiva ritornò su questa sua mancanza di competenze e disse pur avendo a noi alle vedove come vedova mi ha molto aiutato e parlava naturalmente di giulio in audi perché mi ha preso a lavorare nella sua casa editrice dopo la guerra quando io non ero buona di far nulla di nuovo le sue competenze allora non ero buona di far nulla ora non so se questa dichiarazione retrospettiva lo ripeto di natalia ginsburg sia stata dettata da vera o falsa modestia ammettiamo pure che nel 1945 non fosse buona a far nulla di certo un anno dopo aveva imparato a fare molto per esempio a rivedere dattilo scritti per la stampa a tempo di record era velocissima purtroppo l'archivio delle inaudi non conserva finali e bozze risalenti all'immediato dopo guerra quindi non si può vedere la mano di redattrice di natalia ginsburg in azione come invece può accadere per quella di calvino nel decennio successivo però è documentabile attraverso la corrispondenza editoriale ad esempio la meticolosa revisione a cui sottopose la traduzione di jean santerio di proust che secondo lei fortini il traduttore franco fortini aveva tirato via più del lecito così come è documentabile quella a cui sottopose tutti i volumi della recherche che curò redazionalmente grossomodo tra il 1947 e il 1951 ancora pur non raggiungendo mai i vertici di calvino acquisì anche una certa dimestichezza con nell'arte del soffietto testo promozionale risvolto e la quarta di copertina auro parlava dei alcuni risvolti dei gettoni imbastiti da lei anche in questo caso non è facile identificare con certezza quelli imbastiti da lei ma è comunque documentato l'apprezzamento di pavese che le fu maestro in quest'arte e le insegnò che la reclame va nervosa e condensata quello che comunque natalia ginsburg imparò a fare meglio e presto era valutare i romanzi che arrivavano sulla sua scritta essendo una scrittrice lei stessa aveva questo non dove non deve stupire un ottimo orecchio per sia per le storie sia per i dialoghi riusciva a cogliere molto bene i punti di di forza o di debolezza di un libro valutare la tenuta di un racconto la coerenza di un personaggio o anche l'originalità di uno stile se il libro in questione però non difettava di questi elementi coerenza originalità e via dicendo il suo giudizio poteva raggiungere picchi di estrema durezza pauro ha parlato prima e anche durezza questo libro puzza di cadavere quest'altro non vale uno sputo quest'altro ancora è un escremento della letteratura europea sono tutte frasi che si trovano nei suoi pareri di lettura è una durezza a volte sconfinante e inferocia che però a volte riusciva a sciogliere in metafore secondo me bellissime nel 48 per esempio respinse un'opera di silvio darzo ritenendola niente più che una novella lunga con un fiato da passerotto era casa d'altri niente di meno era il nucleo il primo nucleo di casa d'altri la vecchia io prete e la vecchia zelinda la primissima stesura poche pagine posso rubare ancora qualche minuto perché vorrei a proposito del suo ruolo di lettrice di manoscritti ricordare anch'io come ha fatto Mauro con assoluta sincerità questo ottimo saggio di Giulia Bassi pubblicato qualche mese fa dalla Firenze University Press bene in questo saggio Giulia Bassi ha scovato una lettera del 1980 anche in questo caso e quindi ci allontaniamo dagli anni in cui fu redattrice della casa editrice in Audi una lettera a Franco Fortini in cui lei dichiarava di capire solo il linguaggio del bello e del brutto sono due vecchie parole gli scriveva spesso male adoperate o male intese ma le sole su cui riesco a muovermi nella valutazione di un'opera ecco mi sembra che questa dichiarazione lo ribadisco ancora una volta retrospettiva 1980 testimoni in modo efficacissimo come posso dire l'interiorizzazione di una regola del mestiere un mestiere che si esplicava fondamentalmente attraverso sì e no quello dell'editore provo a spiegarmi affermando che un libro era bello o brutto oppure buono o cattivo utile o inutile questi sono gli aggettivi di Natalia Ginzburg stava dicendo implicitamente che era pubblicabile o impubblicabile ecco questo suo quasi manicheismo critico se così si può dire rifletteva secondo me una regola del mestiere un modus operandi teso a stabilire la pubblicabilità di un'opera ecco ciò non le impediva naturalmente di modulare o di graduare i suoi giudizi però lo faceva sempre attenendosi a quel linguaggio del brutto e del bello vi voglio fare qualche esempio che traggo sempre dal libro di Giulia Bassi qualche esempio di suoi giudizi ometto però per discrezione il titolo dei libri a cui a cui si riferiscono bello e divertente abbastanza bello ma smorto un gran brutto libro un po' bello in ultimo non brutto ma futile inutile e brutto molto bello davvero e poi bellissimo indicibilmente bello e questo è lo dico a volentieri menzogna e sortilegio di Elsa Morante anzi se è possibile chiederei ho portato una fotografia di Natalia Ginzburg e di Elsa Morante e credo eccola qua credo che risalga a quel 48 in cui corressero le bozze di menzogna e sortilegio insieme purtroppo la qualità non è ottima lei ha un Natalia Ginzburg ha un cappotto si vede meglio nella versione piccola spigato molto e lei Elsa Morante con un berretto di lana e io trovo questa foto che non ho idea se sia di un fotografo professionista o di un dilettante bellissima bellissima e mi fermo un attimo qui beh in effetti adesso nelle case editrici come le in Audi che era così collegiale diciamo è sempre difficile dire questo autore l'ha portato in tale editore o no perché appunto c'era una però diciamo che quello che possiamo dire è che Elsa Morante ha mandato il manoscritto il datile scritto di menzogna e sortilegio a Natalia cioè Natalia che l'ha portato alla discussione se pubblicarlo o no ovviamente lei dicendo che era stupendo interessante che Elsa Morante è dal punto di vista della scrittura l'opposto di Natalia e quindi questa è la cosa fondamentale di un editor è che deve uscire dai suoi gusti e capire quello che è bello al di fuori delle proprie tanto più degli editor scrittori e diciamo che nella storia delle in Audi ci sono stati editor scrittori che non sono riusciti a fare questo passo di andare fuori dal proprio di quello che pensano che debba essere la letteratura Natalia sì e questo grande colpo diciamo di aver portato Elsa Morante a Rinaudi è la dimostrazione però a proposito di Giulia Bassi diciamo il libro è molto documentato molto bello come dici tu però io devo dire non non trovo giusto insomma che non venga neanche menzionato se non in una nota una piccola nota in cui richiama un saggio su una rivista sull'episodio che tutti sanno insomma del rifiuto di perché Natalia è stata insieme a Pavese insomma quella che non ha recepito come tanti non recepite le cose però insomma siccome non è proprio l'ultimo dei libri in un libro che parla di Natalia Ginsburg editore proprio non accennare a questa cosa vuol dire che vuoi fare una geografia e non una cosa storicamente credibile insomma su questo visto che Domenico Scarpa tra le sue competenze particolari che ho detto prima non ho nominato stranamente quella che forse era numero uno cioè Primo Levi e quindi ti do la parola su questo Allora proviamoci brevemente no io non vorrei che avendo usato quelle avendo parlato di rozzezze e di ignoranza fossero suonate come parole provocatorie o negative sono veramente dei punti di forza e io credo che siano che lo siano stati anche quando sbagliava anche quando sbagliava aiutata dalle circostanze allora diciamo subito una cosa nella primavera nell'autunno nell'estate del 1947 quando Primo Levi si presenta in casa in Audi con il suo manoscritto erano anche mezzi imparentati come tutti i Levi a Torino Natalia Ginzburg faceva Levi di cognome Carlo Levi Primo Levi Natalia Levi c'era tutto un circuito di cui sarebbe difficilissimo tracciare un albero genealogico completo una volta abbiamo provato a chiedere un albero genealogico dell'ebraismo torinese e nord italiano Alberto Cavaillon se ne è scappato a mani alzate impossibile disegnarlo neanche avendo il pavimento di questa sala a disposizione detto questo questo semmai sarebbe stato un motivo per capire al volo l'importanza di quel libro c'erano dei però e qui non è per fare la geografia è per capire come funziona concretamente il lavoro editoriale intanto c'è un fatto nel 1947 è la palissiano ma sono passati già due anni dalla fine della guerra e in quei due anni è uscito l'universo mondo di memorie e di testimonianze sul fascismo sulla deportazione perfino sugli ebrei poche ma ne sono ma ne sono ma ne sono uscite cioè quello che oggi non arriviamo a percepire è che il libro di Primo Levi se questo è un uomo fra le testimonianze del primo dopo guerra sia arrivato buon ultimo in ordine di tempo era un libro tardivo rispetto alla grande massa dei contributi di quel tipo poi ancora Einaudi aveva già pubblicato parecchio in questo ambito e voleva guardare avanti si fondavano nuove collane nel 1947 escono i coralli si rinnova tutto il comparto della narrativa si stanno i coralli iniziano con è stato così di Natalia Ginzburg si progettano i millenni che cominciano proprio con menzogne e sortileggio è il primo dei millenni Einaudi nel 1948 cioè scusate dei super coralli dei super coralli Einaudi vuole guardare Einaudi vuole guardare all'avvenire e Pavese soprattutto è insofferente del passato anche perché ha qualcosa da farsi perdonare sul passato il suo non aver partecipato alle resistenze il suo aver taciuto sostanzialmente sulla morte degli amici che pure lo ha colpito degli amici come Jaime Pintor come lo stesso Leone Ginzburg diciamo ancora una cosa Einaudi nel 1947 era pronto a pubblicare qualche cosa sui lager di sterminio ma manca il colpo manca il colpo perché viene bocciato anche la specie umana di Antelm che aveva proposto Vittorini e tutto viene rimandato agli anni successivi come siano andate le cose e che cose si siano dette Pavese e Natalia Ginzburg e che cosa l'uno e o l'altra ma tocco a Natalia comunicare la decisione negativa che cosa abbiano detto a Primo Levi noi non lo sappiamo perché finora nonostante tutti gli scavi documenti su quel no non ne sono usciti e lo stesso Primo Levi sostanzialmente ha testimoniato che fu un parere orale un no comunicato oralmente resta il fatto che ci fu un enorme errore di orecchio letterario questo al di là di tutte le altre considerazioni si può dire chi capì subito l'errore implicitamente denunciandolo fu Italo Calvino che quando recensisce se questo è un uomo sull'unità unità edizione di Torino Corso Valdocco con alcuni mesi di ritardo dice che è un libro che ha pagine bellissime cioè usa quell'aggettivo bello che Natalia Ginzburg spendeva nei suoi giudizi e qui forse si può si può ritornare brevemente al suo linguaggio al suo orecchio letterario a me verrebbe da dire che il linguaggio editoriale di Natalia Ginzburg è un linguaggio evangelico sia il tuo linguaggio sì sì no no pane al pane vino al vino il che non le impedisce e Tommaso le ha fatte sentire il fiato di un passerotto non impedisce che su questo sì sì no no su questa voluta rozzezza che però è efficace che però fa capire perfettamente il parere la bellezza o la bruttezza di un libro fioriscono delle immagini stupende delle delle metafore che si possono paragonare a quelle dei gigli nei campi del Vangelo appunto il fiato di un passerotto un libro un libro cadaverico lo dico io lo dice di Aragon che è un libro cadaverico il Paysant de Paris se non se non mi ricordo male proposto per per la pubblicazione cioè ecco anche lì c'è questa freccia questa freccia verso il futuro che è intransigente e se noi andiamo a leggere la corrispondenza appunto Tommaso l'evocava del 1945 e 46 soprattutto quell'oggetto straordinario che è il giornale di segreteria dell'Einaudi tenuto per vari mesi fra il 45 e il 46 lì viene fuori tutta la perentorietà di giudizio di Natalia Ginzburg altro che persona in plume che non sapeva fare niente si esprime con una con una intransigenza con una nettezza e con una perizia di orecchio che veramente è straordinaria lascia senza fiato una postilla questo aspetto questo mancanza di orecchio letterario che condannò sequesto un uomo alla così alla una ricezione tardiva è triste ma interessante voglio spiegarmi al di là del fatto che sia stata Natalia Ginzburg sia stata una decisione in tutto in parte o per nulla di Natalia Ginzburg mi riferisco a quella della bocciatura di Se questo è un uomo mi sembra più interessante esattamente questo cioè il fatto che Se questo è un uomo sia stato scambiato da tutti gli editori che lo presero in esame nel decennio nel primo decennio dopo la seconda guerra mondiale per una mera testimonianza della Shoah cioè non fu compreso il suo valore letterario cerco di spiegarmi onore al merito naturalmente di Franco Antonicelli che lo fece pubblicare dalla casa editrice De Silva nel 1947 ma non dimentichiamo che uscì in una collana di documenti e testimonianze di storia contemporanea qual era la biblioteca Leone Ginzburg onore al merito anche di Gianni Bosio e per inciso oggi credo ieri ricorrono cent'anni dalla nascita che nel 1955 cercò di far ripubblicare cercò di convincere Primo Levi e per un soffio non ci riuscì a pubblicare a ripubblicare se questo è un uomo dalle edizioni avanti ma anche lui avrebbe voluto includerlo in una collana di documenti per la storia contemporanea qual era allora l'universale del Gallo onore al merito naturalmente anche Giulio Einaudi che e ce ne ha colpa insomma nel decise di ripubblicare se questo è un uomo in una versione rivista e ampliata nel 1958 ma ancora una volta nei saggi una collana non letteraria ma saggistica elastica quanto si vuole ma saggistica io su questo confesso di non essere d'accordo perché nei saggi Einaudi esce Cristo si è fermato a Eboli esce Hemingway esce America primo amore di soldati esce l'orologio di Carlo Levi cioè i saggi erano bestemmio per l'Einaudi di allora quello che la biblioteca delfi è stata vent'anni dopo una collana dove poteva entrare tutto non una collana saggistica per me il fatto che in quella collana si è uscito il più grande successo editoriale del dopoguerra non connotabile in termini di genere letterario come Cristo si è fermata a Eboli per me basta salvare l'anima della casa di Tricio almeno l'anima di questa di questa scelta non la vedo penalizzante ecco confesso ma condanniamo il nome però quelli ah certo condanniamo condanniamo il nome ci hanno messo di tutto però questo voglio dire ci hanno messo di tutto dunque per tornare chiudendo la parentesi leviana che era giusto aprire ma insomma non è solo questo il discorso tornando invece ai giudizi di Natalia che sono molto interessanti a volte sono appunto molto semplici sì no bello brutto ma a volte invece sono più argomentati articolati e mi insomma mi viene da sottolineare anche perché c'è il discorso teatrale in corso diciamo è qui che c'è un'attenzione molto forte sui dialoghi a Natalia suona malissimo quando c'è un dialogo fuori posto quando una persona un personaggio scusate dice una cosa che non potrebbe dire con quella ci sono delle lettere in cui lei espone questo problema e lei ha proprio l'orecchio per i dialoghi e questo poi è dimostrato dalla sua straordinaria produzione anche se non vastissima diciamo sono testi i testi teatrali di Natalia però sono tutti molto molto belli e lei aveva proprio il senso il gusto per la battuta del personaggio e quindi i dialoghi per lei erano una cosa fondamentale sì allora si può dire che in Audi fra le grandi fortune o virtù che ha avuto in quegli anni ha avuto almeno tre editor che avevano un orecchio assoluto per il dialogo uno era Natalia un altro era Calvino e il terzo era Carlo Fruttero erano tre persone cioè Fruttero si occupava proprio della collana di teatro e la sua stroncatura di una prima traduzione o versione che fu messa pure in scena di aspettando Godot resta memorabile fanno dire non so se è Vladimir o è Stragone il problema non sta in ciò immaginatevi in Beckett questa battuta letterale letterario per due vagabondi letterale intesa come traduzione dal francese letterale letterario stroncatura per sempre perché nell'orecchio non nell'orecchio non gli diceva e in audio ha avuto questa ha avuto questa gente qui che l'ha messa veramente in carreggiata in quegli anni un'altra un'altra cosa che che Natalia diceva nei suoi giudizi quelli più articolati era insomma il suo bisogno di vedere un inizio e una fine in un racconto non gli piaceva non le piacevano i le scritture e diceva potrebbero andare avanti all'infinito questo lo dice mi sembra a proposito forse di Tonino Guerra non mi ricordo più comunque lo dice più volte quindi era molto legata a una a una visione classica diciamo cecoviana del racconto che sapete la solita cosa se c'è un 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 gancio qualcuno ci si dovrà appendere prima o poi nel racconto ogni cosa deve avere una una funzione una funzione e invece c'era inizial iniziava allora forse un un tipo di flusso discorsivo che poi sarebbe stato magari quello di Celati di oggi di Nori che non so c'era un un flusso un po' irrefrenabile e in alcuni libri visionati da Natalia non gli piaceva perché appunto diceva questo può andare avanti tutto il tempo però se non ha se può andare avanti tutto il tempo può anche chiudersi qui e finire lì quindi non c'è una necessità nelle cose e quindi la sua visione era anche a questo punto di vista molto rigorosa e sostanzialmente classica sì e poi diceva anche nei miei romanzi e lo diceva in pieni anni settanta di sperimentazione io faccio ancora dei romanzi dove i personaggi fanno la cacca e la pipì nei romanzi gli altri non so nei miei la fanno quindi metteva e lo diceva Calvino in una lettera a Calvino che le sembrava come dire avere un occhio troppo di riguardo per i romanzi dove quelle due funzioni non comparivano ecco ah è interessante ma ci sono comunque delle delle sue schede delle sue lettere più lettere a scrittori in cui si può vedere comunque qualcosa di riflesso rispetto alla propria alla propria scrittura aspetta quindi insomma le due cose ci sono ancora materiali non pubblicati non visti che tu pensi abbiano una rilevanza può ancora andare a spulciare ormai credo di sì molto è noto agli studiosi ma poco ancora è noto ai lettori ecco quindi molto si può ancora pubblicare ecco perfettamente d'accordo perché poi non è solo non è solo l'epistolario suo che pure è nutrito bisognerebbe esplorare il fondo in Audi cartella per cartella per estrarre tutte le lettere che in qualche modo la riguardano e ricostruire tutta quella parte di rete che ancora si può ricostruire esempio Tommaso nominava il lavoro su sulle traduzioni e la recherche sono sette traduttori diversi fra cui ci sono scrittori del calibro di Fortini e di Giorgio Caproni con alcuni di questi particolare con Caproni lei ha litigato a morte per gli interventi che ha fatto su quelle su quelle traduzioni e ricostruire tutta questa rete lo si può fare solo andando a vedere tutti gli incartamenti di questi scrittori e traduttori nella casa editrice e i rispettivi archivi privati di queste persone adesso l'archivio Fortini è a disposizione l'archivio Caproni è a disposizione questo anche per dire che il lavoro per le studiosi e per gli studiosi ce n'è un sacco da fare vale anche come incoraggiamento a cercare aggiungiamo a proposito della traduzione di Proust che lo sapete tutti forse ma il primo libro l'aveva tradotto lei aveva tradotto ancora ai tempi del confino ed è molto divertente sentire quando Tommaso ha letto la pigrizia che dice non so le lingue un pochino di francese aveva già tradotto il primo libro della recensione grazie 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 a tutti.